ciao a tutti eccomi qui con un nuovo video allora in questo video andiamo a vedere come realizzare una scritta molto semplice per la festa del papà che potete ricreare per qualsiasi altro evento adesso andiamo a utilizzare come tema la festa del papà e con questo tipo di tutorial potete realizzare proprio dei fili alle vostre lettere e andiamo a utilizzare illustrator quindi andiamo ad aprire illustrator andiamo a fare un file nuovo io lo faccio formato a 4 a 4 orizzontale io do ok ecco qui andiamo a prendere l'atti di testo e scriviamo felice ingrandiamo il font e qui andiamo a sceglierci un carattere calligrafico potete fare anche così vedete selezionando tutto il font e con il tasto della tastiera che va giù andare a cambiare in questo modo vedete finché non trovate un font che vi piace ok io metto questo e metto la f piccolina vedete eccola qua e poi faccio shift e alt e me lo porto di qua e scriviamo ora cosa faccio ingrandisco vedete la visuale ok una volta che avete scritto o felice festa lasciate una un po di spazio qui e andiamo a prendere lo strumento ellisse andiamo a crearci il mio solito cuoricino che io mi creo in questo modo vado a mettere la traccia me lo metto qui premo shift e alt e andiamo qui sullo strumento riflessione e premiamo shift ok ci selezioniamo vedete senza vado a fare un movimento vado a fare scomponi qui e mi vado a togliere queste parti qua mi tolgo anche questo ed ecco qua ora sempre sulle abbraccioni tracciati vado a fare unifica mi vado a mettere il cuoricino qui al centro vado a mettere l'angolo arrotondato se non avete questo dovete andare su finestra traccia e attivare la traccia ok fatto questo prendiamo la penna e cerchiamo di ricreare questa parte qua che ovviamente ci andiamo poi a modificare ingrandiamo la visuale e seguendo questo vedete senza lasciare il mouse dovete fare questo movimento ok prendiamo la freccia bianca e ci allontaniamo in questo modo toccando il punto di ancoraggio eccolo qua e andiamo a posizionarci la punta del cuore qui eccola qua andiamo a riprendere la penna ci aiutiamo sempre dalla parte dell'estrema della lettera andiamo verso il basso e poi andiamo a creare questo prendiamo la freccia e ci andiamo a muovere in questo modo ok togliamo il punto di ancoraggio qui e andiamo a muoverci sempre in questo modo ecco qui vedete ora prendiamo questi due quindi queste due linee più il cuore e andiamo a dargli uno spessore in questo modo ora selezioniamo i due testi andiamo a fare qui in alto testo testo crea il contorno ok andiamo su questo prendiamo la gomma e cliccate due volte per diminuire la punta vedete andate qui su dimensione gli date ok andiamo a fare questo vedete selezionando solo il font ed ecco qui ovviamente andiamo a salire un pochettino questo in modo che si copre e ora qui invece andiamo a modificare questo quindi prendiamo sempre la gomma e andiamo fino a qua prendiamo la freccia e tocchiamo questo punto due volte cerchiamo di farlo combaciare qui ecco qua vedete ora io cosa faccio mi prendo questo e vado a fare modifica copia modifica incolla sopra premo shift e alto e vado verso l'interno e faccio in questo modo me lo metto in riempimento qui il colore e poi vado nei campioni se non avete i campioni qui dovete andare su finestra e attivare campioni e lo vado a mettere rosso e me lo porto un po' più giù ok mi prendo questo e mi faccio alto e me lo vado a mettere qua rimpicciolisco premendo shift e me lo vado a mettere di riempimento e me lo metto qua e me lo giro ed eccolo qua e poi prendiamo la t di testo e scriviamo del ingrandiamo e lo mettiamo centrato lo ingrandiamo e poi andiamo a cercarci un font lineare e lo mettiamo qua qui potete sempre cambiare il font forse questo poi duplichiamo premendo shift e alto e scriviamo pa pa selezioniamo il tutto e andiamo qui tutto maiuscolo qui andiamo a cambiare il font mettiamo un font che ci piace lo ingrandiamo e lo mettiamo qua andiamo sullo strumento rettangolo con gli angoli arrotondati e lo andiamo a mettere all'interno di un quadrato selezionando questo andiamo a fare file imposta documento modifica tavole di disegno e se voi andate qui adatta grafica selezionata senza lasciare il nostro rettangolo lui ci fa il file in questo modo ci selezioniamo questo andiamo a fare visualizza righelli mossa righelli e andiamo a mettere tutto centrato quindi questo lo andiamo a mettere questo è centrato oppure questo senza farlo apposta è tutto centrato eccolo qua ok ora se vogliamo unire tutti i fili dobbiamo andare a fare in questo modo allora selezioniamo i due fili qui e andiamo su oggetto tracciato e qui andiamo a fare traccia il contorno sull'elaborazione tracciati qui su unifica andiamo a selezionare il tutto questa cosa dobbiamo fare anche questo oggetto tracciato traccia il contorno poi ci selezioniamo questo e tutti i font qui che abbiamo scritto e andiamo su unifica e come vedete abbiamo unito tranne questo andiamo a fare questa cosa anche qui e facciamo unifica abbiamo unito il nostro carattere ed eccolo qua qui potete anche metterci questo cuoricino premendo alt e metterlo qua come vedete abbiamo creato una scritta per la festa del papà con questo video spero che vi posso dare degli input a creare delle scritte carine e noi ci vediamo al prossimo tutorial grazie e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti